Io credo che non si può ridurre tutto il pensiero di un uomo o di un'azienda solo a dei numeri. Io credo che nella vita di ognuno di noi non si può vivere solo cercando di guardare al profitto o a quello che è emergere in una società come quella che viviamo noi oggi. Io credo che ci sono delle prerogative, ci sono dei valori, dei principi alle quali non si può dare un prezzo. E quindi il fatto che io se pur pagando avrei avuto un certo riscontro economico però questo non mi impediva di evitare di non commettere anch'io un'illegalità perché avrei commesso anch'io un'illegalità accettando questa forma di tangente. Per cui credo che sia importante che ognuno di noi conservi al di là del lavoro che fa al di là dell'impegno sociale o dell'impegno economico o dell'impegno anche nel mondo del lavoro conservi i propri principi e i propri valori in cui crede. Mi sono sentito smarrito più che altro perché non mi aspettavo assolutamente una richiesta del genere per qualcosa che io chiedevo che non era quello che mi sarebbe dovuto toccare perché comunque la richiesta di proroga alla scadenza del contratto era prevista nel contratto stesso per cui quello che stavo chiedendo io era la possibilità di continuare a usufruire di questi tre anni che erano previsti nel contratto per poter portare avanti quel progetto e definire il lavoro e garantire il lavoro anche a un certo numero di dipendenti. Nel momento in cui io gli ho consegnato i soldi è stato il giorno dell'arresto e chiaramente come prova del fatto e garanzia del fatto che stavo ricevendo dei soldi mi aveva fatto vedere l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione che si sarebbe svolto l'indomani, quindi il 3 marzo e dove all'ordine del giorno c'era il mio rinnovo di proroga. Penso che sia un dovere morale dopo una testimonianza di grande spirito di onestà e di altruismo che Santi Palazzola ha avuto non solo per se stesso, per la sua azienda e per la sua famiglia ma per l'intera collettività. Devo dire che come cittadino di Cinesi sono amareggiato di questa situazione soprattutto in un aeroporto internazionale dove si è verificato questo fatto increscioso di una tangente pagata da una persona, un imprenditore sano e pulito di Cinesi e mi fa anche un po' rabbrividire il fatto che in questo aeroporto campeggiano Falcone e Borsellino come simbolo di legalità e mi sarebbe anche piaciuto vedere qui l'amministrazione di Cinesi come il sindaco, come il vice sindaco, come gli assessori di competenza perché l'aeroporto di Cinesi risiede nel comune di Cinesi, totalmente nel comune di Cinesi da cittadino di Cinesi mi rimpiange questa cosa mi dispiace che non è presente un'amministrazione che appoggia un suo cittadino imprenditore che legalmente ha denunciato questo. Invece di sostenere degli imprenditori che denunziano il pizzo, la corruzione si procede in tutt'altra strada e quindi era obbligo dell'osservatorio essere qui presente a sostegno di Santi Palazzolo. Noi in queste occasioni siamo sempre molto presenti e vogliamo essere vicini a chi per proteggere il proprio lavoro e costretto a subire delle mortificazioni sia in una prima fase e forse anche nella seconda quindi pertanto noi siamo qui a dare il nostro contributo come osservatorio e come legalità.